Quattrocento anni fa, un potere che avrebbe cambiato il corso della storia, venne perduto. Per generazioni l'hanno cercato. Il segreto dell'unicorno. Ma nessuno ne ha trovato traccia. Milu, guarda qui. Fino ad oggi. Stai per cacciarti in un impiccio pericoloso. Grazie. A proposito, Ten-Ten. Haddock. Archibald Haddock. Com'è la sua sete di avventure, capitano? Eccellente. Trovateli subito. Tutti e due. Se trova la nave prima di noi, è finita. Siamo salvi. Oh, è un segnale dal cielo. Capitano, si è la cava, benissimo. Geronimo! Ha colpito qualcosa? Un cielo. Resisti, Ten-Ten. Andiamo! Grazie a tutti.